A Natale, il sogno di una vacanza indimenticabile può diventare realtà. Un mare incantevole, paesaggi unici, sapori e profumi inebrianti. Ecco l'isola di Pantelleria. Da museo o hotel, residence o resort, Pantelleria Island, il tour operator in coming, ha il pacchetto vacanza low cost che fa per te, volo compreso. Sotto l'albero di Natale, regalati Pantelleria, l'isola nera del Mediterraneo. Buon Natale e buon anno da Pantelleria Island, il tour operator delle tue vacanze.